29 ottobre 1975 dopo 36 anni termina la dittatura di Francisco Franco dal 1939, anno in cui prende il potere dopo la vittoria nella guerra civile contro le forze del fronte popolare il generale lascia perché è troppo malato per governare ne prende il posto come capo di stato l'erede designato al trono il principe Juan Carlos Franco muore pochi giorni dopo l'uscita dalla scena politica il 19 novembre